Andrea Rasmus Revisore Mamma mia, sono emozionata, si sente. Tanto lo so, lo dico perché tanto lo sentirete. Io ultimamente ho partecipato a una trasmissione televisiva, però devo dirvi, io fino a qualche minuto fa pensavo vabbè, tanto ormai sono andata in tv, sono andata su Italia 1, vi garantisco che non c'entra assolutamente nulla. Detto questo, io ho 11 minuti a disposizione però ci tengo a investire i primi 30 secondi in un ringraziamento particolare agli organizzatori di questo TEDx, a chi mi ha voluta in questo TEDx, perché sto vivendo, grazie a questo TEDx, grazie alle storie che i miei colleghi stanno raccontando, mi auguro io di fare la stessa cosa, sto vivendo un'emozione davvero unica, un'emozione fortissima e quindi davvero un ringraziamento a Gabriella che ci ha tenuto che ci fossi. Dunque, oggi parliamo di strade rivoluzionarie, rivoluzionario in senso positivo naturalmente, rivoluzionario è colui che crede fortemente in un obiettivo e che lotta, combatte con lo scopo di raggiungere quell'obiettivo. Adesso io vi racconterò brevemente la mia storia che ha in diversi punti delle scelte che sono state rivoluzionarie. Comincio dalla mia laurea nel 2001 al Politecnico di Bari, io mi sono laureata in ingegneria elettronica e ho cominciato un po' come tutti i neolaureati, ho cominciato a mandare curriculum in aziende al nord Italia e in aziende all'estero. Però poi dentro di me, io sognavo andare a lavorare nella Silicon Valley, mi sono laureata in ingegneria elettronica, ho voglia di fare ricerca, di stare a contatto con la tecnologia, di inventarmi qualcosa di nuovo. Poi però dentro di me, sarà stato anche il fatto che non mi ha chiamata nessuno perché cominciava il periodo di crisi, ho cominciato a pensare che forse era il caso di rimboccarmi io le maniche, di avere anche io un obiettivo, una meta che oggi ho e della quale ho voglia di parlarne con voi e di fare tutto quello che serve per realizzare questa meta. Stando nella mia terra, io sono di Gravina in Puglia, provincia di Bari, sono a circa 200 km da Lecce, un paese, come diceva Gabriella, agricolo, in cui c'è molto artigianato, c'è il fungo buono, c'è la cucina buona, certo non c'è assolutamente una storia in termini appunto di tecnologia. Però ho detto questo, anche un giorno nella Silicon Valley c'è stato un primo pazzo, folle, che ha avuto questa ambizione e che magari partendo lui da solo, unendosi ad altri, è riuscito a realizzarlo. Perché noi non possiamo farlo? Certo all'epoca non pensavo alla Silicon Valley, pensavo però di realizzare un'azienda di information technology nella mia città, nel mio territorio, a Gravina. E così io non ero sola, questo devo dirlo perché è così, all'epoca c'era il mio fidanzato, lui era un informatico, io ero un ingegnere elettronico, oggi questo fidanzato è mio marito e socio in affari. Abbiamo cominciato a pensare cosa possiamo fare, io avevo fatto una tesi di laurea sull'utilizzo degli SMS, quindi dell'SMS come canale di comunicazione in ambito business, in ambito aziendale. Cerchiamo di mettere su un progetto su questi SMS e abbiamo cominciato. Naturalmente per cominciare c'era necessità di soldi che non avevamo assolutamente, cosa abbiamo fatto? Siamo andati in banca, siamo andati in banca e con un prestito di 30 milioni di lire, all'epoca, siamo partiti. Avevamo una meta ben chiara davanti, volevamo realizzare un'azienda di information technology, oggi posso dirlo con tanti sacrifici, ma tanti davvero, siamo riusciti a realizzarla. Oggi siamo partiti in due, nel 2001 oggi siamo circa 35 persone, siamo entrati in un grande gruppo industriale che è il gruppo Zucchetti, quindi ormai oggi possiamo dire di essere una grande azienda. Ci occupiamo di tecnologia spinta, facciamo sistemi di localizzazione satellitare, sistemi di fleet management, facciamo sistemi di telemedicina, di telediabetologia, sistemi di telecontrollo per esempio di defibrillatori mobili, quindi progettiamo delle schede elettroniche che vanno integrate in dispositivi medicali, facciamo tutta attività che probabilmente, anzi è così, nel nostro territorio è poco frequente trovare, siamo stati i primi 15 anni fa a fondarla, e oggi abbiamo un sogno e ve l'ha accennato già Gabriella. Il sogno è quello di realizzare, non è una sfida alla Silicon Valley, però è il desiderio concreto di dimostrare, un po' nel nostro piccolo l'abbiamo già fatto, ma vogliamo coinvolgere soprattutto i giovani, nel dimostrare che non è il territorio a fare l'uomo, è l'uomo a fare il territorio. Quindi se tutti insieme ci decidiamo di unirci, condividere know-how, condividere competenze, condividere sogni, perché il sogno è alla base di tutto, possiamo riuscire a realizzare nella nostra terra un polo tecnologico che non ha nulla che invidiare alla Silicon Valley. Questo per il momento è un progetto, un progetto però sul quale stiamo già lavorando. Noi a breve come azienda ci spostiamo, noi siamo nel centro storico di Gravina in Puglia, però purtroppo per fare un salto in termini sia di numero di collaboratori, e sia di entità, di progetti su cui lavorare, è necessario spostarsi in zone più ampie. Quindi ci stiamo spostando nella zona industriale di Gravina, dove ci sono una marea di capannoni. Signori, io abbiamo fatto un sopralluogo tempo fa per scegliere quello che è più confacente alle nostre esigenze, vi garantisco, provavo un sentimento di tristezza nel visitare questi capannoni in cui si respirava l'aria di operai che erano stati all'improvviso, si sono trovati senza lavoro. Gravina era al centro del, diciamo, del, come dire, del, era un focolare importante nel mercato del mobile imbottito. Gravina, Santeramo, Altamura, vi ricordate Natuzzi? Poi cos'è successo? Il business del mobile imbottito è entrato in crisi. Quindi ci sono questi capannoni grandissimi, alcuni anche con dei divani dentro, che sono abbandonati. Quindi abbiamo l'idea di rivalutare questa zona, visto che c'è un sacco di spazio, di rivalutarlo con una carta importante. Vi ho già detto che recentemente ho partecipato a una trasmissione televisiva che mi ha fatto conoscere il mondo delle start-up. Le start-up, io ritengo, siano un, come dire, un vantaggio in questo momento per l'economia mondiale, posso dire, sono davvero una grande, una importante carta da giocare. Ci sono giovani, ho conosciuto giovani, soprattutto del sud Italia, con delle idee innovative, con delle idee interessanti, ai quali però manca tutto il post-produzione. Ok, ho un'idea, magari ce l'ho da tempo nel cassetto, che ci faccio ora con questa idea? Quindi la nostra idea è quella di realizzare un polo, una condivisione di competenze, che non siano solo le competenze tecnologiche, competenze anche in termini di analisi di mercato, in termini di proposizione di un prodotto-servizio sul mercato. Questo è, dicevo, un progetto ambizioso, un progetto che richiederà sicuramente sforzi, richiederà sicuramente sacrifici, ai quali però noi siamo già abituati. Noi, quando siamo partiti, abbiamo scelto sì di rimanere nel nostro territorio a Gravina in Puglia, però abbiamo girato continuamente per essere sempre aggiornati, eravamo sempre presenti in fiere a livello internazionale, ad eventi a livello internazionale, perché è importante sì scegliere di rimanere nel nostro territorio, ma questo non significa che i giovani non devono andare in giro a conoscere nuove tecnologie, a fare corsi di formazione, assolutamente no. Noi riteniamo che il nostro territorio ha delle potenzialità delle quali noi siamo consapevoli, però quasi le diamo per scontate, per cui non riteniamo siano uniche, siano molto particolari, invece noi vogliamo puntare in questo concetto di Murgia Valley, vogliamo puntare proprio a rivalorizzare, a rivalutare un territorio in tutte le sue sfaccettature e dare la possibilità anche ai giovani imprenditori, agli imprenditori del futuro, a coloro che stanno nascendo ora, in questo momento, che hanno delle idee, che hanno degli obiettivi, dare a loro la possibilità di supportarli e quindi non intendo non farli sbagliare, perché gli errori ritengo che siano fondamentali per la crescita, è importante però gestirli nella maniera giusta, prenderli come sfide, prenderli come leve appunto di crescita, però supportarli in tutta quell'attività che noi ormai dopo 15 anni abbiamo una bella esperienza in termini di mercato, in termini di ho un'idea, realizzo un prodotto, prima di portarlo sul mercato faccio un'analisi del mercato e vado a verificare qual è la maniera giusta per collocarlo sul mercato. Noi abbiamo un team di marketing all'interno dell'azienda che utilizza una piattaforma di digital mobile marketing che consente appunto di monitorare, verificare il prodotto, il servizio che noi sviluppiamo, su quale target è più idoneo e va appunto a targettizzare i potenziali clienti in maniera scientifica, con la possibilità anche di misurare tutto quello che è stato inviato sui social tramite email marketing, tramite sms. Quindi il supporto che noi vogliamo dare a queste nuove giovani aziende all'interno della Murgia Valley è quello supporto a 360 gradi, non soltanto a livello tecnologico. Questo grazie ad una condivisione di know-how, di competenze. Riteniamo che questa sia, come dire, una sfida per il nostro territorio. Noi, ripeto, in piccolo l'abbiamo già dimostrato. Riteniamo però che davvero sia l'uomo a fare il territorio e non il territorio l'uomo. Dobbiamo soltanto cercare di convincere, in un certo senso, dimostrandolo con i fatti, anche le nuove generazioni che questo sia così. Solo così possiamo pensare di entrare come Sud Italia all'interno di un concetto di economia nazionale e mondiale, e quindi alla stregua di Silicon Valley o di altre zone del mondo che sono famose perché si fa tecnologia. La tecnologia la facciamo anche noi. La facciamo anche noi, la faremo anche noi nella nostra Murgia Valley. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.